ciao a tutti in questo video vi voglio parlare del filato cashmere della tessiland me l'avete richiesto e quindi vi dico la mia più sincera opinione ci tengo a precisarlo subito questo video non è stato sponsorizzato nessuno mi paga per parlare di questo filato e tantomeno mi è stato chiesto di registrare questo video se non da voi che volevate la recensione la tessiland al momento in cui giro questo video lo propone in 16 colori io qui ne ho 15 perché il sedicesimo è questo rosa cipria ve lo metto di fianco a rosa normale che ho utilizzato per fare la stola all'occasia se mai vi metto qui sopra e nel box informazioni il link al tutorial per realizzare la sola quindi lo realizza in bianco e cru beige rosa rosso giallino verdino petrolio tiffany celeste glicine blue jeans perla grigio nero e come abbiamo detto anche in rosa cipria guardando l'etichetta ci dice che è un 100 per cento cashmere in 25 grammi ci sono circa 95 metri consigliano di lavorarlo con i ferri del 3 o del 4 ma qui dipende da cosa vogliamo realizzare e dalla nostra mano e poi le indicazioni di lavaggio classiche del cashmere cioè da lavare a mano stirare se si vuole io non lo stiro mai comunque una temperatura bassa non asciugarlo in asciugatrice si può lavare a secco e non si può candeggiare chiaramente questo filato come dice anche appunto l'etichetta è made in italy quindi è un filato che è stato realizzato in italia chiaramente il cashmere ha delle caratteristiche particolari quindi è morbidissimo molto ossettoso drappeggia bene ci si può lavorare diciamo un po di tutto perché tiene anche comunque caldo e quindi tranne cose secondo me ma quello è un gusto ognuno poi fa quel che vuole cose troppo pesanti ecco io non ci farei magari un cappotto perché non ha secondo me le caratteristiche ecco però per l'amor di dio siccome è molto molto caldo come filato anche se sottile uno veramente può lavorare di tutto a contatto con la pelle chiaramente non dà nessun tipo di problema perché è veramente morbido soffice e setoso e anche se il gomitolino così è piccolo da 25 grammi in realtà appunto ci sono 95 metri quindi è equiparabile a un filato da lavorare con i ferri circa numero 4 in cipro composto da 50 grammi quindi diciamo che con un gomitolino così è come se noi avessimo un classico gomitolo da lavorare appunto con dei ferri diciamo così numero 4 da 50 grammi dal doppio perché rende tantissimo io lo preferisco lavorato con lavorazioni piuttosto leggere dritto rovescio ok col pizzo secondo me sta benissimo secondo me a meno non è che non è adatto a me non piace tantissimo diciamo nelle lavorazioni a 3d perché proprio il fatto che è molto drappeggiato e che è così morbido secondo me non le fa risaltare bene comunque appunto anche questi sono chiaramente gusti io l'ho lavorato diverse volte e devo dire che mi sono sempre trovata bene perché è facile da lavorare come del resto anche gli altri cashmere tiene il campione ciò vuol dire che il campione che avevo fatto di 10 cm per 10 cm ha mantenuto il rapporto ferri maglie anche dopo il lavaggio infatti non ha problemi di di lavaggio anche perché questo è cashmere già follato quindi vuol dire che è già se per chi non sa che cos'è la follatura adesso non mi di lungo nello spiegare però diciamo così che è già come lo vedete non cambia dopo il lavaggio perché solitamente i cashmere non follati sono quasi dei cordini a vederli comunque molto sottili e sembrano anche abbastanza rigidi e poi dopo un lavaggio particolare che si chiama follatura ecco danno il meglio qui invece è già stato follato quindi è già morbido e noi possiamo vedere subito per il lavaggio e il mantenimento io non ho trovato nessuna difficoltà tant'è vero che l'ho sempre lavato a mano si asciuga anche abbastanza velocemente a me non ha mai creato problemi e vi devo dire la verità che vorrei provare anche a lavarlo nella lavabiancheria con il programma per la lana per quanto riguarda invece diciamo così la nota dolente uno sentendo parlare di cashmere chiaramente pensa che oltre a essere un filato prezioso è anche un filato costoso devo dire la verità qui il rapporto qualità prezzo è veramente veramente eccellente forse perché testiland non ha intermediari cioè noi andiamo a comprare direttamente sul sito online da loro e quindi non ha fornitori negozi ecco non ha vari passaggi però è uno dei cashmere veramente che io ho provato di buonissima qualità che ha anche un prezzo veramente veramente basso infatti paragonandolo in questo momento in cui io giro il video ad altri filati devo dire che praticamente si mantiene sì su una fascia piuttosto alta rispetto chiaramente a filati non così pregiati ma a un livello di costo veramente basso in conclusione che cosa ne penso sicuramente la mia recensione è una recensione positiva lo consiglio a tutti devo dire anche alle persone che non sono espertissime perché non è per niente un filato difficile da gestire anche quando magari bisogna disfare un pezzettino perché si è fatto un errore ecco che non ci sono problemi pur essendo morbido e pelosetto non troppo perché potete vedere che non è troppo peloso ecco però non ci sono problemi neanche quando bisogna andare a disfare per oggi è tutto se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao